Credo di aver dimenticato la domanda, però questo progetto è stato bellissimo, come ho detto, forse non l'ho detto, ma è stato un progetto fatto veramente tutti assieme, sotto la guida, la visione, l'arte, l'anima di Pietro, ero emozionato ancora prima di conoscerlo e arrivare a lavorare con lui e entrare a far parte del suo mondo, è stato fantastico, quando mi chiedono se c'è stata una difficoltà, mi viene da rispondere no, anche se sembra assurdo perché il mondo di Pietro è così potente che mi ha permesso di camminare con grande agilità lì in mezzo. Questo premio è bellissimo e soprattutto riceverlo dalle mani di Paolo è stata un'emozione fantastica e questo mi rimarrà sempre nel cuore.